Arriva al Capolini all'inchiesta sulle presunte irregolarità nel bando di concorso per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale e non senza sorprese. Nell'avviso di conclusione indagine vergato dai sostituti procuratori Domenico Guarascio e Fabiana Rapino, compaiono nuovi nomi. 11 gli indagati, tra politici, dirigenti regionali e legali rappresentanti di imprese. Tra questi Giuseppe Gentile, vicepresidente del Consiglio regionale all'epoca dei fatti assessore ai lavori pubblici, dirigenti generali e di settore del Dipartimento all'Infrastruttura e alle politiche della Casa, accusati a vario titolo di abuso di ufficio in concorso o falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale o dal privato in atto pubblico. REI, secondo le ipotesi accusatorie, di aver approvato un nuovo bando firmato dalla Giunta Scopelliti, annullando il precedente varato dalla Giunta Loiero a scapito di diverse imprese. Escono di scena gli altri componenti e la Giunta di centrodestra che, secondo le iniziali accuse, avevano proceduto al conferimento di incarichi a favore di Laganà, trasferendo senza alcuna motivazione valida dirigenti di settore in altri comparti, di fatto declassati. Le indagini della Procura sono scattate in seguito a due esposti della ditta Edil Parco e dell'imprenditore catanzarese Giuseppe Gatto, legale rappresentante della Gatto Costruzioni Spa, fatti fuori nel secondo bando di gara.